Buonasera a tutti gli amici e ben ritrovati. C'è un tempo per... ho voluto riprendere questo titolo della mia rubrica, per un periodo abbiamo mandato in onda la rubrica chiamandola semplicemente rubrica religiosa, ma all'inizio ho voluto dare questo titolo, proprio scegliendolo dal libro della Bibbia che è il Coelet, proprio per sottolineare che c'è un tempo per ogni cosa. E oggi, cari amici, c'è un tempo per riflettere. E per riflettere anche su argomenti importanti, su argomenti che hanno segnato la storia, sia da un punto di vista umano, sia da un punto di vista religioso. Il 27 gennaio prossimo tutto il mondo vivrà la giornata della memoria. Si è scelta questa data proprio per ricordare e tramandare alle generazioni future quella che è stata una tragedia che si è consumata nei primi del Novecento, ossia lo sterminio degli ebrei, messo in pratica da... E' attuato, pianificato dal nazismo e in particolare da Hitler. Il progetto di Hitler, infatti, lo sappiamo tutti, era quello di rendere il mondo libero dagli ebrei. Il nazismo e Hitler hanno visto negli ebrei un popolo da eliminare, per svariati motivi. furono, come dire, accusati di deicidio, di inquinamento della razza ariana, di arricchimento mediante lo sfruttamento del lavoro e delle disgrazie economiche altrui. Insomma, dei motivi apparentemente banali tirati in causa per eliminare, era questo proprio il piano di Hitler, eliminare la razza degli ebrei. E' innegabile tutto ciò che è avvenuto in quegli anni. La storia ce lo insegna, lo abbiamo studiato. Tantissimi sono i documentari, i film, le testimonianze che ci sono state e ci vengono raccontate, proprio per ricordare questo evento. Ma nonostante ciò ancora qualcuno ha il coraggio, all'ardire, di negare questo evento. E oggi noi siamo qui, in questo spazio, per ricordare. Ricordare anche noi, perché da buoni cristiani, mi pare più che doveroso, ricordare quelli che sono stati sempre i nostri fratelli nella fede, cioè il popolo degli ebrei. Dovete sapere che circa 6 milioni di ebrei, tra giovani, vecchi, neonati, adulti, furono uccisi dalla violenza nazista. E ripeto, non possiamo non parlarne. Oggi prego proprio la regia di mandare in onda alcune foto che io stesso ho trovato, trovandomi, avendo proprio il piacere di visitare il campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia. E sono stato in questi due campi di concentramento, Auschwitz e Birkenau, proprio per constatare personalmente quello che è avvenuto, quindi avere anche una memoria visiva di quanto è accaduto. Come vedete, questo è l'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz, dove all'inizio, proprio nel cancello, sopra il cancello, primeggia la famosa scritta che ha fatto anche scalpore, che questa scritta qualche anno fa era stata rubata, Arbeit macht frei, cioè il lavoro rende liberi. Ma in realtà, dietro questo cancello, dietro questa scritta, lì si stava avverando veramente, stava avvenendo, uno dei più grandi genocidi della storia. Ancora qualche immagine dell'esterno del campo di concentramento di Birkenau, in questo caso. E ancora gli interni con le reti, con il filo spinato del campo di concentramento di Auschwitz. Sono immagini davvero che fanno riflettere. Ecco, esseri lì presenti, ogni anno una delegazione di scuole, anche delle nostre scuole italiane, si tregano in questo periodo, in questo campo di concentramento, per rivivere, per ascoltare alcune testimonianze di alcuni sopravvissuti. E si resta davvero senza parole, c'è poco da dire, si resta sgomenti innanzi a tale, a queste immagini, soprattutto ricordando quanto è avvenuto. Ecco ancora un'altra immagine. Queste ancora sono le varie stanze dove venivano rinchiusi i prigionieri. E questo è il muro, il muro della fucilazione, dove venivano appunto fucilati gli ebrei, soprattutto quelli che erano, creavano più problemi, perché come sappiamo la maggior parte poi venne esterminata attraverso i forni crematoi. E questa che fa impressione davvero sono alcuni contenitori che contenevano appunto il gas, col quale venivano fatte le famose docce, cioè venivano inoculati questi gas e quelle povere persone ovviamente morivano, stordivano quantomeno. Questi sono alcuni resti dei forni, dei forni crematoi. E questi alcuni, alcuni suppelletti, alcune vettovaglie degli ebrei, troviamo dei piatti, gli oggetti che utilizzavano giornalmente. Ed ecco questa immagine del forno crematoio. Ecco, dinnanzi a queste immagini davvero si resta inorriditi. E voglio concludere con un messaggio, con un'immagine di speranza, ecco perché all'interno di questo campo di concentramento è vero che ci sono stati dei generali nazisti, dei militari che hanno comunque rappresentato l'orrore, ma ci sono state anche sante persone, comunque persone buone, persone innocenti, tantissime, la maggior parte ovviamente, tutti che sono lì, si sono immolati, ma c'è stato anche qualcuno, qualche piccolo uomo, qualche piccolo sacerdote, che ha scelto di dare la propria vita per salvare, dovete sapere, la vita di un padre di famiglia. Sto parlando di padre Massimiliano Colbe, o meglio, San Massimiliano Colbe, poiché è stato canonizzato dallo stesso Giovanni Paolo II, suo conterraneo, perché padre Massimiliano Colbe era di origine polacca. Questa è la cella in cui fu rinchiuso padre Massimiliano Colbe. Siamo nel reparto della fame, cioè in questo reparto venivano rinchiusi quei prigionieri che si volevano proprio far morire di fame. Nonostante venne rinchiuso padre Massimiliano per oltre 15 giorni, dopo 15 giorni lo ritrovarono, lo videro ancora in piena forma e addirittura cantava e lo dava a Dio e alla fine è stato ucciso con un'innezione letale. Ecco, queste immagini, come dicevo, fanno riflettere. Fanno riflettere tanto. Ma oggi, oggi qui, in questo momento, vorrei sottolineare insieme a voi quello che è il rapporto tra gli ebrei, Dio e la Shoah. Gli ebrei, prima di ogni cosa, sono il popolo per eccellenza della religiosità. L'Antico Testamento non fa altro che raccontare la storia del popolo degli ebrei. sono quelli che hanno incontrato questo Dio, questo Dio d'amore, questo Dio misericordioso che li ha guidati. ma sono stati da sempre un popolo anche molto travagliato, un popolo di esiliati, condannati a subire le angherie di faraoni, di popoli stranieri. conosciamo tutti le perivezie del popolo ebreo nel deserto, conosciamo tutti le grandi figure veterotestamentarie del popolo degli ebrei, Mosè e tutti i grandi patriarchi, i grandi profeti. Ecco, tutto ciò che è raccontato nell'Antico Testamento sa di storia di religiosità ebrea, ma lo stesso Gesù nacque in un contesto di ebrei. Lui stesso da piccolo, proprio domenica prossima, ascolteremo il brano in cui Gesù si ritrova nel Tempio, nella sinagoga meglio, per la precisione, e apre il rotolo delle scritture e leggerà il famoso passo Lo Spirito del Signore è su di me. Questo per sottolineare che Gesù proprio era ebreo e viveva la religiosità ebrea. Dopo tutte queste grandi perivezie che ci sono raccontate nella Bibbia, il popolo ebreo si è ritrovato a confrontarsi con questa grandissima tragedia. Stiamo parlando dell'Olocausto, della Shoah, vedremo la differenza tra questi due termini. Comunque, in ogni caso, quest'evento ha creato nel cuore di tutti, ma soprattutto nel cuore e nella mente degli ebrei, un senso di sgomento, un senso di incertezza anche da un punto di vista religioso, cioè ci si chiedeva come era possibile in quella circostanza, in quelle circostanze, credere ancora nell'esistenza di un Dio infinitamente buono, infinitamente misericordioso, un Dio d'amore, un Dio che ha scelto il suo popolo, il popolo di Israele, lo ha eletto. Come poteva quello stesso Dio permettere un così grande male? Ed ecco allora che inizialmente gli ebrei definirono questo evento Olocausto. Il termine Olocausto è di origine greca, Olos Causto, cioè si tratta di un sacrificio di un animale che veniva bruciato per intero. Causto, il termine Causto ci ricorda un po', ci fa capire, ci ricorda un qualcosa che viene bruciato, la soda caustica ad esempio, ecco, per capirci. Quindi un animale che veniva immolato come sacrificio a Dio. Ma in questo modo, proprio chiamando questo evento, definendo questo evento Olocausto, veniva messo in discussione, come dicevo, il rapporto tra Dio e il popolo ebraico, perché Dio non avrebbe potuto permettere sicuramente un sacrificio umano di una entità così vasta. Ed ecco allora che si preferì il termine di Shoah, dove il termine Shoah indica più la sofferenza, la catastrofe, il disastro, cioè rimanda a un qualcosa che non è stato comunque causato da Dio non è qualcosa che è stato causato dal male commesso, dal peccato commesso dal popolo degli ebrei, perché il popolo gli ebrei ovviamente si chiesero anche questo, è stato forse il male commesso da noi a causare l'ira di Dio. Questo termine Shoah un po' attudisce questo impatto drammatico tra Dio e la Shoah. Ma comunque al di là di tutto ritornano e ritornano ancora oggi tantissime domande riflettendo soprattutto in questi giorni su questi eventi. Cioè ci si chiede ancora oggi ma Dio dove era in quel momento? Perché ha taciuto? E la Chiesa? Il Papa del Tempo? Cosa ha fatto? Si parla tanto, si è parlato tanto del silenzio di Pio XII Papa Eugenio Pacelli che in quel periodo essendo al Soglio Pedrino comunque era chiamato a vivere quel periodo quel particolare periodo storico. E' stato detto molto anche qui è stato accusato di aver taciuto di non essere intervenuto direttamente per contrastare questo olocausto. In realtà soprattutto le ultime ricerche stanno dimostrando come anche se apparentemente Papa Pacelli ha taciuto ma in realtà ha messo in moto tantissime tantissime iniziative tense a salvare tantissime vite lo stesso Papa proprio in prima persona si è occupato di salvare tantissime persone ma comunque anche nella Chiesa questo evento ha creato sgomento ho voluto e vorrei leggere proprio un breve estralcio del discorso pronunciato da Papa Benedetto XVI attenzione badate bene un Papa tedesco nel campo di concentramento e discernimento di Auschwitz Birkenau allora quando lo stesso Papa si regò a visitare questo campo di concentramento il 28 maggio del 2006 ascoltate con attenzione cosa dice il Papa prendere la parola in questo luogo di orrore di accumulo di crimini contro Dio e contro l'uomo che non ha confronti nella storia è quasi impossibile ed è particolarmente difficile e opprimente per un cristiano per un Papa che proviene dalla Germania in un luogo come questo vengono meno le parole in fondo si può restare soltanto uno sbigottito silenzio un silenzio che è un interiore grido verso Dio perché Signore hai taciuto perché hai potuto tollerare tutto questo è in questo atteggiamento di silenzio che ci inchiniamo profondamente nel nostro intimo davanti all'innumerevole schiera di coloro che qui hanno sofferto e sono stati messi a morte questo silenzio tuttavia diventa poi domanda ad altavoce di perdono e di riconciliazione un grido al Dio vivente di non permettere mai più una simile cosa quante domande ci si impongono in questo luogo sempre di nuovo emerge la domanda dove era Dio in quei giorni perché Egli ha taciuto come poter tollerare questo eccesso di distruzione questo trionfo del male ci vengono in mente le parole del Salmo 44 il lamento di Israele sofferente tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose per te siamo messi a morte Signore estimati come pecore da macello svegliati perché dormi Signore destati non ci respingere per sempre perché nascondi il tuo volto dimentichi la nostra miseria e oppressione poiché siamo stati prostati nella polvere il nostro corpo esteso a terra sorgi vieni in nostro aiuto salvaci per la tua misericordia questo grido di angoscia che l'Israele sofferente leva a Dio in periodi di estrema angustia e al contempo il grido di aiuto di tutti coloro che nel corso della storia ieri oggi e domani soffrono per amore della verità e del bene e ce ne sono molti anche oggi noi non possiamo scrutare il segreto di Dio vediamo soltanto frammenti e ci sbagliamo se vogliamo farci giudici di Dio e della storia non difenderemmo in tal caso l'uomo ma contribuiremmo solo alla sua distruzione noi gridiamo verso Dio affinché spinga gli uomini a ravvedersi così che riconoscano che la violenza non crea la pace ma solo suscita altra violenza il luogo in cui ci troviamo è un luogo della memoria che nello stesso tempo è il luogo della Shoah il passato non è mai soltanto passato esso riguarda noi e ci indica le vie da non prendere e quelle da prendere con queste parole non hanno bisogno di commenti ma io vorrei sottolineare le ultime parole del Santo Padre il passato non è mai soltanto passato cioè rivivere ricordare nella giornata del 27 gennaio nel giorno della memoria rivivere questi momenti rivivere questi eventi storici non è soltanto un ricordare quanto accaduto ma è un momento per riflettere per far capire che quel male che è avvenuto alcuni anni fa non dovrà mai avvenire perché purtroppo la storia ci ha insegnato e ci insegna che alcuni eventi tragici e drammatici si sono ripetuti nel corso del tempo dinnanzi alla prima guerra mondiale si dubitava dell'esistenza comunque dell'accadere della seconda guerra mondiale ma purtroppo è avvenuto quindi oggi ci vogliamo augurare davvero che forme simili di orrore di male non si ripetano più nella storia ma per fare questo bisogna che noi nuove generazioni ancora più piccoli cresciamo in un clima di pace di serenità sia nel nostro piccolo nelle nostre famiglie nel nostro paese nella nostra nazione sia a livello mondiale oggi vedete la nostra generazione sta vivendo un periodo di incertezza di incredulità su tantissimi aspetti però ci possiamo ritenere anche una generazione fortunata perché abbiamo a disposizione tantissimi mezzi internet per primo noi siamo qui oggi proprio perché ci stiamo servendo di questo bellissimo mezzo la televisione i mezzi di informazione i giornali che ci danno la possibilità di confrontarci e di sapere ciò che avviene non soltanto nel nostro piccolo nel nostro paesino ma abbiamo la possibilità di sapere cosa sta avvenendo a Roma piuttosto che a Sydney piuttosto che a Parigi o a Madrid ecco questo ci dà la possibilità di controllare un po' quello che ci circonda di far tesoro delle esperienze positive e di contrastare con ogni mezzo quei focolai di violenza di orrore che si vanno creando noi abbiamo il compito davvero di cancellare nel sorgere di annullare di annientare nel sorgere forme e iniziative di antiseminismo o comunque forme razziali nei confronti di tutti abbiamo questo grandissimo compito e lo dobbiamo portare avanti con dignità ecco vorrei un po' dopo questa riflessione che meritava la giusta la giusta attenzione la giusta riflessione e la giusta serietà perché mi sembra più che doveroso ma vorrei lasciarvi anche con qualche informazione di ciò che è avvenuto ieri che avverrà che sta avvenendo oggi si conclude oggi e che avverrà domenica come dicevo domenica domenica prossima ieri 24 gennaio era la festa di San Francesco di Sales questo grande santo è il padrono dei giornalisti ieri infatti la chiesa ha celebrato la 47esima giornata per le comunicazioni sociali questo argomento riguarda tutti noi caro Salvatore caro Marco amici della regia perché parla di noi in realtà ieri sia il santo padre sia il nostro vesco hanno convocato quelli che sono i giornalisti le persone coinvolte in mezzi di comunicazione sociale la 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 nostra diocesi ha una una propria rubrica che è possibile consultare nel sito della diocesi di Messina www.diocesi.messina.net se non ricordo male ma comunque basta cercare su un motore di ricerca diocesi.messina e andare a consultare a vedere non soltanto i video ma anche i documenti del nostro vesco e le iniziative che avvengono in diocesi dicevo ieri il nostro vesco ha convocato tutti i giornalisti tutti gli operatori sociali e ha dato loro un messaggio ma ha voluto sottolineare ancora una volta quello che ho detto prima cioè l'importanza oggi dei mezzi di comunicazione sono un'opportunità per noi grandissima e quindi sfruttiamola sfruttiamola al meglio oggi 25 gennaio si conclude la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani io era venerdì scorso ho lanciato un messaggio un invito a tutti cioè ho sollecitato affinché ci fossero degli interventi per poter insieme trovare comunque un momento di riflessione avevo pensato vi dicevo domenica per il discorso a un confronto tra ortodossi e cristiani non ho avuto riscontro ecco da parte da parte vostra quindi ho scelto pensando anche alla giornata del 27 alla giornata della memoria di trattare questo argomento che spero sia stato di vostro di vostro gradimento comunque oggi la chiesa conclude diciamo questa settimana durante la quale si è pregato per l'unità dei cristiani con questo io concludo invitando e dandovi o meglio l'appuntamento alla settimana prossima già penso saremo nel mese di febbraio quindi già concludiamo con questa puntata il primo mese dell'anno vi faccio vi auguro una buona serata un buon fine settimana e una buona e santa domenica ecco io come state vedendo ho messo da parte mio malgrato a malincore cioè lo spazio dedicato alla lettura del Vangelo l'ho fatto per non appesantire ma comunque estendo davvero l'invito a ciascuno di voi soprattutto ai più giovani a prendere in mano la Bibbia o perlomeno a consultare ci sono tantissimi siti che trattano del Vangelo del giorno del Vangelo della Domenica ecco andate a vederlo andate a leggerlo perché la parola di Dio è l'unica fonte per un cristiano di sostegno le nostre parole qualunque forma di teologia alta qualunque discorso importante è sempre un nostro discorso un discorso umano è un ragionare ma pur sempre umano la parola di Dio invece non tradisce perché proviene direttamente da Dio è quella la nostra guida sicura per cui l'invito a prendere la Bibbia tra le mani con questo vi saluto e vi auguro una buona serata da questo piccolo e freddo oggi paese di San Perniceto buona serata a tutti grazie a tutti